Professor Cepernich, l'Osservatorio sta anche monitorando in maniera importante i social, l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione nella campagna elettorale, in particolare in Europa, ma appunto rimaniamo per il momento stretti sull'Italia. Arriviamo sempre un po' in ritardo rispetto agli Stati Uniti, si diceva poc'anzi, perché oggi sappiamo che le forme di mobilitazione negli Stati Uniti sono diverse rispetto a quelle del 2008, oggi sembra che in Italia si stia vivendo l'eco di quello che è successo nel 2008 negli Stati Uniti, è così? Sì, è così, insomma, c'è un ritardo che ci portiamo dietro da tempo sui social ed è anche, io credo, un ritardo di tipo culturale. Allora l'Osservatorio sulla comunicazione politica in realtà monitora aspetti diversi, per esempio, differenziamo le scale, su scala regionale l'utilizzo dei social network per la campagna è un utilizzo, io credo, abbastanza rutinario e quindi l'Osservatorio su questo soltanto con l'osservazione qualitativa, ma ha potuto far emergere alcuni dati interessanti, per esempio, sembra abbastanza chiaro che c'è un proliferare in campagna elettorale, soprattutto di profili sia Twitter che Facebook di tipo appunto elettorale. Questo è un problema grosso, mi riferivo al problema culturale prima apposta per questo, insomma. I social avrebbero una grossissima utilità, una importanza significativa nel tenere vive le relazioni sociali tra i candidati, i partiti e il corpo elettorale, proprio quando la campagna elettorale non c'è. Quindi sarebbe interessante alimentare le relazioni, il capitale relazionale da questo punto di vista. Invece c'è un proliferale di, come dire, presenze sui social che si vede che sono... e c'è un problema di identità rappresentata dai social. Spesso ci sono profili, non scendiamo nel dettaglio, ma insomma ci sono profili elettorali che definiscono un'identità del candidato alla presidenza della regione piuttosto che al Consiglio regionale che non rispecchia esattamente la figura in questione. Cioè si vede in trasparenza, ma neanche tanto in trasparenza, che il profilo è strumentale. Allora c'è più in generale, potremmo dire da questo punto di vista, un problema di competenze nell'utilizzo del mezzo, che forse negli anni andrebbe ridotto, ecco una prima dimensione del gap. Su una dimensione diversa invece, per esempio sulla dimensione nazionale, il monitoraggio e quindi campagna per le europee, da questo punto di vista, il monitoraggio va ad analizzare soprattutto i profili dei partiti sui due social che abbiamo ricordato prima. Ed emergono cose interessanti, io credo. Allora il nostro monitoraggio è un monitoraggio che ha l'obiettivo di, diciamo così, analizzare le performance comunicative dei partiti su quel mezzo. Quindi questo deve essere molto chiaro. Dividere le performance comunicative invece dall'impatto che poi questa comunicazione ha. Allora chi studia queste cose sa che cercare di definire l'impatto dello stare sui media in campagna elettorale è molto difficile. Allora noi ci limitiamo da questo punto di vista a studiare la costruzione del flusso comunicativo dei partiti. E qui emergono cose interessanti che vanno in controtendenza allo Stato, vanno in controtendenza rispetto ad alcune delle cose emerse negli anni precedenti. Facciamo così, una incrostazione di senso comune dice che i partiti di sinistra sono quelli per esempio più attivi sui social rispetto a quelli di destra. Ecco i dati fin qui emersi risultano che c'è stato, in questa fase, un avvicinamento significativo. Ora questo non vuol dire, non puoi indurci a dare giudizi su chi usa meglio i social, perché poi qui servono altre variabili. Ma dal punto di vista della produttività c'è una presenza sempre più diffusa da parte di tutti i partiti che capiscono l'importanza del mezzo. Dopodiché da lì a imparare ad usarlo in modo corretto io credo che ci sia ancora molto lavoro da fare. Se posso dare un dato velocissimo così, c'è per esempio su Twitter una inattesa iperattività di Forza Italia, che si misura settimanalmente, ricordo, il nostro monitoraggio è settimanale, che mostra numeri a volte 4-5 volte superiori rispetto al partito in seconda posizione in termini di produttività. Questo è strano, perché se eravamo abituati in quelle posizioni classifica c'erano altri partiti. Penso invece alla Lega, che anche da questo punto di vista mostra performance di produttività abbastanza significative, o al nuovo centrodestra. Il PD se la gioca bene, nel senso che è poi sempre ad ottimi livelli, ma c'è uno stacco netto tra la produttività di Forza Italia rispetto a quella degli altri. Ci sono poi diversi posizionamenti rispetto alla capacità di entrare in relazione con il proprio elettorato. Noi utilizziamo indicatori di interattività, per esempio, che ci dicono quanto il profilo riesce ad essere spreadable rispetto a chi segue il profilo medesimo. E lì evidentemente un tratto comune a tutti i profili è la scarsa capacità di essere per esempio rituitati, è la scarsa capacità di entrare in relazione con i propri followers o piuttosto chi segue il gruppo Facebook. Qui emerge un secondo problema culturale. Il secondo problema culturale è che probabilmente non si è capito il surplus che questi mezzi possono dare in una campagna elettorale. Allora c'è un problema di modello e di approccio al social network. Sovente accade che l'approccio al social network è di tipo broadcast, immaginando che quella sia una visibilità esattamente uguale, analoga a quella televisiva o a quella radiofonica. Ecco, c'è per esempio, qui faccio un esempio, c'è una difficoltà a prendere in carico l'interazione con chi sta sui profili, cioè con i possibili elettori o anche con coloro i quali contestano la presenza e i contenuti dei post. Immaginate la quantità e il grado di informazione che anche con le critiche, anche con un approccio di tipo aggressivo, i cittadini lasciano sui profili dei partiti. Ma questi non vengono mai presi in carico.